Tailandesi in strada e in massa, scontri con la polizia, i cittadini protestano contro le leggi introdotte dalla monarchia sulla diffamazione reale, punita con condanne fino a 15 anni. Ne sono accusati quattro leader della protesta giovanile. Il loro arresto ha scatenato un'ondata di proteste dopo un periodo di quiete forzata a causa del coronavirus. Questa volta i giovani pretendono una revisione del governo del premier Prayuth Chan-ocha, ispirandosi ai loro coetanei di Hong Kong. Grazie a tutti.